E quale sarebbe la tua visione di un mondo nuovo? Occorre un ribaltamento culturale, occorre ritornare a valori sani e non mi riferisco al passato come se il passato fosse il paradiso e il presente e il purgatorio e il futuro e l'inferno, no, no, io non ragiono così, io mi riferisco a valori naturali e non dico nemmeno se a questo parallelo, un altro parallelo, se a questa longitudine o altra longitudine, non dico neanche a quale cultura piuttosto che a quale altra, perché trasversalmente le buone abitudini, il buon senso, la saggezza l'hanno conosciuto tutte le civiltà, io naturalmente ne conosco una più approfonditamente di tutte le altre che è la civiltà indovedica in cui i valori sono ben chiari, ben definiti, ben individuati e anche i mezzi, quindi la teoria, la teoretica per poterli conseguire è una via illuminata, è una via chiara, una via ben segnalata e adesso insomma tutti questi valori ovunque si vada, che siano le Americhe o che sia l'Asia nelle sue così multicolori manifestazioni, che sia l'Europa, che sia la parte mezza europea e mezza asiatica della Russia, che sia l'Africa, che sia l'Australia, che siano i nord e i sud del mondo, beh insomma le persone sono abbastanza aliene rispetto alla propria identità, alla propria natura e sono tutte estrovertite, tutte frettolose, tutte superficiali. Quando io dico tutto non significa che non si salva nessuno, ovviamente intendo che ovunque ci sono ancora dei saggi e molti di questi sono un po' dormienti, quindi c'è da svegliare le persone, svegliarci noi stessi e questa rivoluzione chiamiamola così, ovviamente non violenta, mansueta, una rivoluzione dei nostri costumi, una rivoluzione prima di tutto che deve avvenire dentro di noi, altrimenti se non risolviamo i nostri problemi, proprio i rapporti con noi stessi, prima di tutto io con mio stesso, con me stesso, tu Alberto con te stesso, chi ci ascolta e chi ci vede con se stesso, insomma chi ci legge con se stesso, quella bellezza o quella auspicata, quello auspicato miglioramento del mondo o trasformazione che vorremmo vedere negli altri e nell'ambiente, bisogna che prima venga in noi. Ecco, occorre una bonifica mentale, una bonifica delle coscienze, della consapevolezza prima ancora che della coscienza, altrimenti non si sa neanche che cosa sia se prima non si sviluppa la consapevolezza e quindi la consapevolezza di noi, della nostra realtà e questo lavoro, un lavoro bello, non è un lavoro faticoso, non è un lavoro opprimente, non è qualcosa che si fa all'esterno di noi, è un lavoro che si fa con noi, che proprio lavoriamo sulla carne viva nostra, proprio sulle brutte abitudini, le brutte vecchie abitudini, trasformando quelle noi trasformiamo il mondo e incoraggiamo molte altre persone a trasformarsi e a trasformare e questo tutto nell'ottica, nella prospettiva che sia il bene per tutti, perché non esiste il bene mio separato dal bene degli altri, non esiste che io possa star bene e essere incurante di persone che soffrono. Noi possiamo dire che non è sempre facile intervenire nella sfera dei sentimenti, delle comprensioni delle persone anche quando le vediamo sofferenti, ma lo si può fare in uno spirito di offerta, si può offrire una prospettiva, una via, una via d'uscita e che fra l'altro è anche bella, è anche un bellissimo viaggio, proprio un viaggio di gioia, perché nel momento che noi ripariamo i guasti del carattere ci sentiamo molto bene, ci sentiamo contenti, ci sentiamo soddisfatti.